Eccolo, arriva il scemo di turno! Mi piace l'agosto, ma con tutto quello che costa, mi conviene mangiare la tuta, tutte state anche la testa. Boh! Ben orale! Cosa? Non preoccupare che alcune persone comprendono quello che ho detto. Non preoccupare. Bravo! Ecco, se hai capito traduci lo telo. Lascia che traduci te. Avanti! Oh, stai unh! A l'ora del tappi ciao ciao! Ciao ciao! Ciao ciao! Ciao 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 ciao